Signora Presidente del Consiglio di Stato, signor Presidente dell'Usi, care amiche e cari amici dell'Università, quello che vi voglio presentare quest'oggi sono delle ricerche che stiamo svolgendo presso la Facoltà di Comunicazione e vorrei iniziare dicendovi quelli che sono i contesti qui all'Università dove ci occupiamo di nuove tecnologie applicate al dominio turistico. Dunque partiamo dal Master in Turismo Internazionale, la Facoltà di Economia in collaborazione con la Facoltà di Comunicazione Diretto dal Professore Enrico Maggi, entro il quale ci sono due corsi dedicati alle tematiche che vi illustrerò fra poco, il laboratorio della Facoltà di Comunicazione webatelier.net, da qualche mese la presidenza dell'IFIT che è la federazione internazionale dedicata proprio alle nuove tecnologie nel dominio turistico e poi dall'anno scorso la Cattedra UNESCO per le nuove tecnologie dedicate allo sviluppo e alla promozione del turismo sostenibile nei siti di patrimonio dell'umanità. Ecco vorrei dire che la professora Lorenzo Cantoni è titolare della Cattedra UNESCO, presidente dell'IFIT, dirige il direttore scientifico del webatelier e insegna un corso, mentre io sono coinvolta nel laboratorio webatelier coordinandolo, insegno un corso al Master e appunto sono coinvolta in progetti di ricerca entro queste due realtà che abbiamo il grande onore di avere qui in Usi. Dunque iniziamo, quando parlo di esperienza turistica, di turismo, parlo di gruppo di persone che lasciano un luogo per visitarne un altro, fanno un tour per l'appunto, il tour de France, tornano indietro, se non tornassimo saremo appunto degli emigranti. Dunque vediamo che entro questo percorso ecco che facciamo ci sono tre momenti principali, abbiamo un prima, un durante e un dopo. Allora vediamo che le nuove tecnologie e la comunicazione online entrano in questi tre momenti della nostra esperienza turistica e l'arricchiscono. Allora immaginiamoci il prima, il momento in cui stiamo decidendo se visitare o meno un luogo. Allora vediamo che i contenuti presenti online, contenuti ufficiali, contenuti commerciali, ma anche contenuti inseriti da persone sconosciute che catturano la nostra attenzione e influenzano il modo in cui impariamo rispetto a un luogo e le nostre decisioni, anche di acquisto. Abbiamo il durante, le nuove tecnologie e poi la comunicazione entrano anche durante mentre siamo già alla nostra destinazione. Allora immaginatevi il navigatore che già non possiamo più perderci, ci dice quali sono i luoghi dove dobbiamo andare. Ma nuove tecnologie come adesso ci sono i Google Glass che ci permettono in modo proattivo, ci forniscono delle informazioni che arricchiscono, arricchiscono la nostra percezione sensoriale della realtà. O ancora vi farò vedere più avanti delle applicazioni che noi semplicemente girando, guardando, utilizzando questi strumenti, il telefonino, sto parlando di tablet, di queste cose qui, del computer quindi, ci arricchiscono la nostra appunto esperienza presso un luogo. E poi abbiamo il dopo, dopo siamo rientrati, è il momento della rielaborazione dell'esperienza vissuta, è il momento della condivisione. Allora in un mondo digital, non l'ho scelta per il pubblico, è il momento della condivisione. Allora in un contesto digitale può assumere la forma di album, di fotografia o semplicemente inviare delle email. Ed ogni modo stiamo riassumendo l'esperienza complessa che abbiamo vissuto. E queste informazioni le abbiamo riassunte, le abbiamo in qualche modo dette, possono, ritornano alla fase del prima di qualcun altro. Se sono condivise, sono rese pubbliche online, potranno essere utilizzate da qualcun altro. E quindi, vedete, diventano una serie di processi comunicativi che noi ricercatori presso la facoltà di comunicazione siamo particolarmente interessati. Ma partiamo questo breve viaggio pensando alla nostra, a una destinazione ipotetica. Allora pensatela con le sue identità culturali, il suo passato storico, le sue tradizioni, i suoi paesaggi. E dall'altra parte, con la metafora dei ticket, ticket per entrare in un museo. Immaginatevi. Quindi immaginatevi con questa metafora commerciale i nostri operatori turistici, un hotel, un ente turistico, piuttosto che un ristorante. Essi parlano, comunicano, stanno generando delle narrative rispetto al loro business. Raccontano senz'altro di loro, ma inevitabilmente, volenti o non volenti, raccontano della nostra destinazione. E nel momento in cui stiamo cercando delle informazioni, stiamo imparando rispetto a questi luoghi, siamo esposti, riceviamo queste informazioni. Ma attenzione, con l'avvento delle nuove tecnologie, essi non sono gli unici. Esistono, esiste qualcun altro. Sono proprio questi contenuti, queste conversazioni online, come vi ho detto prima, generate da altre persone che hanno un'opinione, arricchiscono, co-creano delle narrative rispetto alla nostra destinazione. Ecco che queste opinioni pubbliche, presenti online, rappresentano quindi delle grandi opportunità per il turismo. Da una parte, se volete, è proprio con questa metafora, da una parte consentono la scoperta di nuovi luoghi, di nuove informazioni rispetto al territorio, ma dall'altra parte costringono i nostri operatori turistici a una comunicazione più trasparente, più chiara. Non possono più dichiarare di avere un qualcosa se poi effettivamente queste infrastrutture non ci sono. Quindi il web, la potenza, se volete, di queste nuove tecnologie irrompe in questi processi comunicativi. E se volete crea, ha creato un cambiamento, ha ripensato, costringe a ripensare le strategie di promozione del territorio. Da un'ottica proprio di costruzione, di pianificazione di quella che è l'identità di un territorio, ad un'ottica di importanza dell'ascolto, di ciò che già viene detto rispetto al luogo. Allora, in questa direzione abbiamo portato avanti delle ricerche presso la facoltà di comunicazione, in particolare occupandoci del concetto di reputazione online, dove immaginiamoci il web esattamente come una piazza, una piazza virtuale dove già esistono queste opinioni. Allora, se guardiamo, se facciamo un po' di passi indietro e andiamo a vedere che cosa vuol dire reputazione, vediamo che la parola stessa già ci dice quali elementi dovremmo analizzare, dovremmo studiare. La reputazione che deriva dalla parola latina reputo, dove il verbo puto che vuol dire avere un'opinione. Abbiamo questo signore che ha un'opinione rispetto alla nostra destinazione. Attenzione, opinione che ben si differenzia dalla conoscenza esatta, potrebbe avere semplicemente un'opinione, un'idea della nostra destinazione e l'ha pubblicata online. Allora con il prefisso re vediamo che altre persone, questa opinione condivisa all'interno di un gruppo diventa quindi l'argomento che noi stiamo studiando nel momento in cui approcciamo il concetto di reputazione. E online assumiamo che queste istanze di opinione pubblicata online ci permettano di comprenderne quella che è l'opinione condivisa presso questi gruppi di individui che pubblicano online. e che in una fase del primo, del durante e del dopo possono influenzare il modo in cui impariamo rispetto al territorio. Dunque un contributo che abbiamo dato in questi anni è stato proprio quello di capire come classificare questi big data. Esistono? Come classificarli? Come trovare dei metodi di classificazione di queste informazioni complesse. E quindi analizzandone qual è il sentimento espresso, quindi in quale direzione stiamo andando, positiva, negativa, rispetto a quali argomenti. Ma non abbiamo guardato solo ciò che è presente online. Grazie a un anno passato alla Temple University mi ha permesso di elaborare, di analizzare anche quelle che sono le percezioni, l'elaborazione di questi messaggi. Allora in particolare siamo andati a vedere diversi gruppi di individui, abbiamo intervistato più di 2.500 americani cercando di capire ma se esposti a questi contenuti che cosa di fatto stanno imparando rispetto alla nostra, a un'ipotetica destinazione. E un altro esperimento che abbiamo portato avanti, qui siamo in uso in uno dei nostri laboratori, ci siamo, un'altra direzione è stata quella di capire, ma se siamo esposti tutti a questi messaggi, ai medesimi messaggi, vediamo davvero tutti le stesse cose, ne riconosciamo davvero l'opinione dominante, quali elementi delle pagine catturano la nostra attenzione. Quindi l'implicazione pratica per chi ha il dovere di promuovere il territorio sarà quella di ribilanciare, capire meglio dove e come generare questi messaggi e pubblicarli e promuoverli. Ecco, fino a qui vi ho fatto vedere un filone specifico di ricerca che portiamo avanti alla Facoltà di Comunicazione. Vorrei dirvi anche che ci sono due colleghe, altre due colleghe che hanno completato un dottorato di ricerca in questi ambiti appunto di comunicazione mediata da questi strumenti, in particolare il lavoro della dottoressa Kalbasca che si è occupata dell'e-learning, quindi dell'uso delle nuove tecnologie per l'apprendimento, proprio nell'ambito turistico. O il lavoro della dottoressa De Ascanis che si è focalizzata applicando la teoria dell'argomentazione sul come interpretare questi messaggi. Siamo andati anche lontano, più lontano, siamo andati a vedere come la Svizzera ad esempio è percepita nei social network cinesi, come essi imparano, di che cosa stanno dicendo queste persone della nostra Svizzera, oppure come sono rappresentate le destinazioni nell'est Europa, nel modo in cui parlano, raccontano delle destinazioni. E grazie a questa esperienza che abbiamo acquisito in questi anni, in questo settore specifico, stiamo collaborando ad un progetto finanziato dall'Unione Europea, nella definizione delle linee guida di queste nuove figure professionali che i nostri ragazzi si trovano adesso a svolgere come attività nell'ambito dell'e-tourism, quindi delle nuove tecnologie applicate al turismo e all'ospitalità. Però vorrei dirvi anche che non solo giriamo il mondo, ma abbiamo forti legami con il territorio. Quindi nelle prossime due ultime slide conclusive vorrei dirvi anche alcuni progetti di ricerca applicata che in collaborazione con il territorio. Sempre con l'approccio di dire, beh, il turismo non è una disciplina accademica di per sé astratta, abbiamo necessità di fare ricerca applicata e che in questo piccolo, che scopriamo, che possa essere in qualche modo di aiuto alla comunità, portare questo servizio al territorio. Allora questo è un esempio molto interessante di ricerca nell'ambito della realtà aumentata. Quindi vi dicevo, questo magari lo conoscete, è un semplicissimo telefono che permette di collegarci ad internet. E semplicemente che cosa ci dice? Ci dice quello che una persona ci direbbe vicino a noi. Ci dice, guarda, se guardi in questa direzione, verso il San Salvatore, dei punti di interesse che potresti visitare sono, ad esempio, Paradiso, Morcote, eccetera, eccetera. Ci sta proprio una mano che ci dice in questa direzione, è la realtà aumentata, mi aumenta, mi arricchisce la mia percezione. Allora, la nostra idea è quella di far lavorare, ad esempio, i ragazzi in progetti di ricerca applicata in modo che possono di fatto fare delle esperienze reali e possono capire come utilizzare queste nuove tecnologie per la promozione e la valorizzazione del territorio. Un'altra ricerca, e qui ritorno un po' più lontano, perché una nostra collega in questo momento, Asta Dukaita, si trova in Sudafrica, proprio con l'obiettivo di dire, ma come queste nuove tecnologie possono creare, generare attenzione, generare attenzione nei ragazzi che vivono nei paesi del sud e del centro Sudafrica, possono comprendere il patrimonio di questi posti meravigliosi che hanno, come attraverso l'uso magari di giochi che sono all'interno di queste nuove tecnologie e possono stimolare la loro attenzione e di imparare di più rispetto a questi luoghi. Non siamo andati troppo lontano, ma l'abbiamo fatto anche per i siti del patrimonio dell'umanità, dell'UNESCO, che abbiamo qui in Ticino, Castelli di Bellinzona e il Monte San Giorgio, quindi con un'app che potete anche scaricare, se volete, proprio con l'idea di dire come possiamo utilizzare queste tecnologie per imparare di più rispetto al territorio. Infine, una collaborazione anche con, sono progetti recenti, per questo li ho nominati, ad esempio con la Fondazione Svizzera Pro Venezia, accompagnando una fondazione come questa, è così importante, nella presenza online. Oppure con gli amici di Ticino Turismo, con progetti didattici di ricerca applicata, coinvolgendo i nostri studenti a studiare, sono studenti internazionali anche ticinesi, però a studiare i luoghi nei quali studiano e cercare di capire come queste nuove tecnologie possono creare delle soluzioni per la promozione del territorio. Quindi sono proprio alla conclusione. Se avete trovato interessante questi temi, vi invito il prossimo febbraio 2015 qui a Lusi, perché abbiamo il grande onore di ospitare la conferenza ENTER 2015, che è la conferenza scientifica, ma sono invitati anche persone, operatori del settore, proprio dedicata a queste tematiche. Quindi ho concluso, vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e arrivederci a breve. Grazie. 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 Grazie.